Presidente Giacalone, una partita giocata dalla Mazzarese in maniera insomma buona perché la squadra si è espressa su buon livelli, ha avuto almeno sette occasioni da rete e poi alla prima occasione per gli avversari ti fanno il gol al quarantesimo e poi insomma anche l'occasione per pareggiarla. Insomma succede così che arriva la prima sconfitta stagionale? Sì molto spesso dopo quando si perde una partita si vanno alla ricerca delle motivazioni che l'hanno determinato e molto spesso anche degli attenuanti. Io invece dico un arbitraggio esemplare, gli assistenti all'altezza del match che si è svolto, una società che abbiamo affrontato il Favara molto organizzata a cui faccio i complimenti, a Presidente Castronova, a tutta la dirigenza, una squadra ben allenata che non ha mai pareggiato dopo le prime sconfitte, ha solo vinto e che la Mazzarese ha obiettivamente messo sotto ma che ha fatto emergere la vocazione, se di vocazione si può parlare, iniziale che è quella di difendersi bene ma realizzare poco. Ecco, se dovessimo oggi commentare tecnicamente questa partita sette azioni nitide, due traverse, azioni importanti però alla fine non l'abbiamo messa dentro. Questo è successo in tante altre partite e quindi faremo una riflessione su quello che ha funzionato e su quello che non ha funzionato in queste 11 partite. Continuiamo ad avere una classifica importante, c'è l'amarezza del risultato ma c'è la consapevolezza che siamo una società organizzata, una società che guardiamo all'oggi e soprattutto anche alla prospettiva. La prospettiva non può che essere, che possono essere i nostri giovani io ho visto Erbini, Straripante in questi dieci minuti ho visto Russo fronteggiare il giocatore di categoria superiore su quella fascia, per non parlare di Furnari per non parlare di Angileri che ha fatto, ha strabiliato questo non voglio togliere ovviamente meriti o demeriti ai meno giovani ma semplicemente per dire che abbiamo un Ander XIX che l'anno scorso si è affermata come campione regionale e che questi giocatori che abbiamo costruito e che abbiamo governato per far sì che potessero essere pronti per la categoria quando sono stati chiamati dal tecnico hanno date ampie soddisfazioni quindi è inutile dire che non mi sono mai nascosto e continuano a nascondermi ripeto, siamo amareggiati dal risultato abbiamo visto cose positive e cose meno positive è ovvio che in questa fase dove si aprirà il mercato ci interrogheremo su quello che c'è da fare partendo ripeto dalla consapevolezza che la nostra struttura pluriennale deve guardare di buon occhio i nostri giovani e dargli le motivazioni per far sì che l'impegno settimanale possa ancora di più dargli le motivazioni importanti e perché no per accompagnarli anche in categorie superiori io del resto credo che in queste categorie quello che bisogna fare è proprio questo essere fucina di giovani e lanciarli nel calcio che conta qualora ne hanno le possibilità se questo accadesse, cioè se avessero le possibilità sicuramente non mancherà per la nostra straordinaria società per il nostro staff tecnico coltivare i loro sogni e contribuire a realizzarli a realizzarli